Molto velocemente. Forse nel dare il parere ho dimenticato, volevo chiedere al collega di ritirare l'emendamento e presentare un ordine del giorno. Il tema esiste, in parte è già stato regolamentato, visto che credo che possa essere utile anche alla luce di buone pratiche già adottate da diversi comuni su questo tema, rafforzarlo con un ordine del giorno. Grazie, onorevole Braga. Ha chiesto di parlare l'onorevole Zaccagnini, che a questo punto ci dice anche se accoglie la proposta. Prego. Sì, grazie Presidente. Sì, accolgo la proposta con favore e sottolineo l'importanza dell'agricoltura urbana. Grazie. Grazie, onorevole Zaccagnini. A questo punto passiamo ai pareri sugli emendamenti dell'articolo 4, 4.2 De Rosa. Parere contrario. 4.3 De Rosa. Contrario. 4.4 Grimoldi. Favorevole. 4.6 Segoni. Contrario. Scusi, ecco, perché non sapevo dove scrivere. Identici 4.7 De Rosa, 4.8 Franco Bordo. Contrario. Ok. 4.11 Matarrese. Invito al ritiro. Parere contrario. Contrario. 4.300 delle commissioni. Parere favorevole. 4.13 Pellegrino. Contrario. 4.14 Pagano, 4.15 Busine, 4.16 Gelmini, 4.17 Capezzoni identici. Contrari. Contrario. 4.18 Taricco, identici, 4.19 De Rosa, 4.20 Fautilli, 4.21 Pellegrino. Contrario. Invito al ritiro.